Almeno da lei mi sarei aspettata un minimo di applauso sul lavoro che abbiamo fatto sulla revisione del PNRR, perché le risorse che noi abbiamo liberato sono state concentrate, mi è testimone il Ministro Fitto, proprio e soprattutto sul tema dell'agrisolare, per esempio c'è quasi un miliardo di euro che viene destinato all'agrisolare, sulla transizione energetica della nostra industria verso l'energia verde. Ci sono moltissimi provvedimenti che noi abbiamo concentrato su questo e quindi con gli strumenti dei quali disponiamo continuiamo a fare una transizione energetica che però, come ho detto tante volte e ribadisco, deve essere, ovviamente deve tenere conto di un contesto, perché noi non possiamo pensare di fare la transizione verde e di consegnare alla transizione verde una deindustrializzazione della nostra nazione. Penso che le due cose debbano lavorare insieme, se si fa con un pro di pragmatismo si può riuscire. Così come è una fake news quella delle risorse che non sarebbero state prese dalle società energetiche, perché la tassa è immutata, l'incasso non è ridotto, banalmente l'ultima rata della tassazione del 2023 sarà versata all'inizio del 2024, anche perché nel 2023, ringraziando Dio, gli introiti sono stati superiori a quello che avevamo preventivato, ma noi sconti non ne facciamo, quelli sono stati altri.